Bene ragazzi bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a fare il quarto episodio di Little Nightmares Dove stiamo andando? Non cadiamo eh Ho detto non cadiamo e siamo caduti Afferriamo sta... Ah ma stavo in una nave Io devo andare sopra Entra dentro a quel buco? No andiamo ancora più su Stavamo dentro una nave, hai capito? E ora... Andiamo più in alto E rientriamo di qua Ma quanti sono? Tutti quelli mi ammazzano Ammazzano quanto pesano? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, quanti sono? Dove mi trovo? Questi si staccano così, sì Vai Inbucati Se mi vedono questi mi ammazzano Che è quella? Quella dell'inizio del gioco Salta E salta E salta Entra dentro Sembra di stare in Cina Lo mangia, non lo disturbiamo Quest'altro mangia Ma mangia, ma non guardare a me Ma come cazzo fida Ah questo non c'ha le gambe Vai, 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 salta Salta Mamma come è scampato Ma no, oh no Vai Vai Vai, chiuso Tutto chiuso E mo? Dove vado, dove vado? Devo andare sopra i piatti Devo andare sopra i piatti Devo andare sopra i piatti Questi se ne accorgeranno Ma sarà troppo tardi Perché io Perché io Mi arrampico qua E mi dondolo Uno Due Tre Vai Si, 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 si Grande così Grande così Vai Dritto Dritto Tranquillo Vai per la tua strada Vado qua dentro Spostati Spostati Dentro al buco Ma io prendo questo? Preso Ciao Ma chi sei? Ma che fa? Mi segue? Mi segue E mi deve seguire? No ci arrampichiamo? Ah Vediamo Vediamo che succede Se lo faccio Salire qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua No Devo salire qui sopra E farmela tutta De corsa A slalom Via Salve Salve No Dovevo fare tutto A slalom Non me puoi prendere Perché se no Non ci arrivo Uno Due Tre Corri Corri Mi ha preso Vai 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 Ma sei dei fischi Ma perché? Perché? Corri 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 Salta Corri Salta Bene No Io non ci posso credere Oh Ce l'ho fatta Dobbiamo entrare dentro al buco? No Saliamo Così Bene 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 Di qua Proseguiamo Dove andiamo? Allora Andiamo di qua E ce la facciamo Veloce 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 Salta Vai Bene Veloce Veloce No 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 Non ci arrivi di qua Forse devo fare Così Ciao 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 E ciao Ciao È stato bello Attiviamo Attiviamo Oh Cazzo Oh Cavolo Volevo Dentro Dentro Dove sto Non ci sto Ma io che te ne vai Chiudi la porta Bravo Specchio Una cosa Che ho sempre Desiderato fare Canestro Ma no Con questa mira Così No Non lo fa Cosa devo fare Proviamo a fare canestro Però C'è una mira Del cavolo Questo Cos'è successo Wow Ho rotto il vetro C'è un'altra stanza E ora Salgo Tata Dai che ci passi Brava così Brava così Dentro Brava così Non cadere Brava così Raccogli Butta Salva Via 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 Interruttore Non serve Mi porta sopra Dove andiamo In un'altra cucina Destra o sinistra Madonna Questo Io questo L'abbraccio Ciao 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 Così mi segue Non lo svegliamo Perché non mi sembra il caso Ci sono chiavi Ci sono cose da prendere No Non viene con me Scappa Via 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 Veloce Rapido 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 Subito Rapido Subito Subito Salta Via 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 Più veloce Più veloce Più veloce Di sotto Cade tutto Salta 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 Però ha salvato? No Non ha salvato Mi devo sbrigare Mi devo sbrigare Devo fare velocissimo Devo fare velocissimo Non c'è Tempo per fermarsi Via 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 Velocissimamente Devo fare Dai Dai Di sotto Di sotto Di sotto Veloce 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 Di qua Vai Non ce la fa più Non ce la fa più Salta Eh non doveva andare così Mi sa Doveva andare Così 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 Sì 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 Accendiamo Cosa Mi sta Succedendo Hai fame Andiamo Andiamo a trovare Qualcosa Da Mettere Sotto I denti Va via La luce Dai Grazie 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 Ma Non voleva la Salsiccia Mangi pure Lui Mangi Proprio Senza Pietà E mo' La Salsiccia Non te la Mangi Più Ti piaceva La Salsiccia Vabbè Andiamo Di qua Sali Ce n'è ancora Ah ecco Io voglio andare a vedere chi è questa Però prima andiamo di qua Perché c'è questa Vai Salvataggio Allora Analizziamo bene la situazione Devo prendere il pulsante Sì Devo aspettare che arrivi Che se arriva lei Mi so fregato con le mie mani Mi so fregato E invece No Di sotto Va bene così Bene ragazzi Anche questo episodio Si può concludere qua Spero Che il prossimo Sarà L'ultimo episodio Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Iscrivetevi Al canale Se non siete ancora iscritti Lasciate un like Anche sulla pagina facebook Che come in ogni video Trovate nella descrizione Io vi saluto E ci rivediamo All'ultimo episodio Ciao 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 Ciao